Ragazzi, come va? Buongiorno, buon lunedì, ben ritrovati. Oggi inizia una nuova settimana chiave Juventus e dobbiamo essere un po' più sereni perché i tre punti del derby ci fanno iniziare probabilmente la settimana di buon umore, o almeno personalmente è così. Ieri ho avuto anche la fortuna di riuscire a prendermi, tra virgolette, una giornata libera perché poi il post derby di sabato sera mi ha tenuto impegnato quasi fino a luna di notte, poi però domenica sono riuscito a farmi una bella passeggiata con i miei amici per Venezia. Abbiamo bevuto qualche birra, abbiamo mangiato qualche cicchetto tipico veneziano e quindi abbiamo fatto qualche chiacchiera in renta al calcio, abbiamo seguito l'andamento delle partite. È stata una domenica differente, una domenica che non vivevo da un po' perché ovviamente in serenità, per quanto mi riguarda il risultato la Juve va a inferire anche tanto sulla mia serenità e poi le solite battutine tra amici, tifosi di altre squadre, la Juve fa questo, la Juve fa quello. E ci torneremo anche sopra a questo discorso perché ieri purtroppo ho letto alcune cose su Twitter che non mi sono piaciute, ma vorrei andare nel dettaglio perché stamattina ho aperto Numero 10 e vi invito a scaricare Numero 10, link qui sotto in descrizione, applicazione completamente gratuita e venerdì in occasione di Juventus Empoli non troverete il post partita su questo canale YouTube, bensì appunto su Numero 10, quindi scaricatelo per vedere il post partita di Juventus Empoli, scaricatelo per leggere le notizie, le informazioni, scaricatelo per poter vincere una maglia della vostra squadra del cuore, scaricatelo perché ci sono i miei articoli e i miei video, scaricatelo perché è un'applicazione che aiuterà tantissimo a tenere aggiornata anche inerente al fantacalcio e alle squadre avversarie. E appunto leggevo questo articolo riportato da Gazzetta dello Sport in cui si parlava di rientri di Pogba e di Federico Chiesa. In questo momento fa ridere perché Di Maria che col Maccabi ha avuto quel risentimento muscolare è il giocatore più lontano al ritorno in campo per la Juventus, perché Pogba e Chiesa invece hanno iniziato ad accelerare il rientro e potrebbero vedersi già tra 7-8 giorni il 25 di settembre in occasione della trasferta in Portogallo a Lisbona per affrontare il Benfica in Champions League. Partita dal dentro fuori definitivo dove non abbiamo mai avuto a disposizione appunto questi due gioiellini che farebbero la differenza in ogni squadra in Italia e che mi auguro possano iniziare a fare la differenza anche nella Juventus reale come l'aveva definita Massimiliano Allegri in quell'intervista che non era piaciuta praticamente a nessuno al Corriere dello Sport di Mario Sconcerti. Addirittura leggevo che Federico Chiesa potrebbe essere già convocato per la partita di venerdì appunto con l'Empoli. c'è un problema però Allegri giustamente aggiungo io prima di averlo a disposizione veramente quindi di potergli riconcedere il campo vorrebbe vederlo in un test e se ricordate bene in qualche conferenza stampa precedente proprio Massimiliano Allegri ci aveva detto prepareremo un amichevole per testare Federico Chiesa e quale occasione migliore se non in questo momento in cui siamo un po' più bloccati a livello del calendario perché appunto la prossima partita sarà venerdì non ci sarà nessun impegno infrasettimanale si potrà lavorare con la squadra tranquillamente senza dover preparare prima un'altra partita infrasettimanale non ci sarà la Champions non ci sarà la Serie A ci rivediamo venerdì e allora qua ci potrebbe essere il primo test e infatti si sta ragionando di organizzare una partitella già domani nella giornata di domani in casa con la Juventus tra la prima squadra e alcuni giocatori aggregati dall'Under 23 o dall'Under 19 quindi la primavera per cercare di vedere la condizione attuale di Federico Chiesa e questa sicuramente già non è una buona notizia è un'ottima notizia perché Federico Chiesa mi manca tantissimo perché non è stata come per Pogba che mi manca sì perché mi manca rivederlo in maglia Juve dopo questi anni che per lui c'è stata una sua scelta è stata una sua volontà di allontanarsi da Juventus Federico Chiesa non ha mai scelto di lasciare la Juventus per quasi un anno perché si è fatto male a gennaio stiamo parlando di metà ottobre o fine ottobre verosimilmente fino ottobre quindi praticamente novembre 10 mesi senza Federico Chiesa sono stati lunghi e sono anche stati 10 mesi in cui la Juventus sicuramente non ha dato il meglio di sé non è riuscita a risplendere quindi Federico Chiesa mi manca davvero tantissimo un giocatore del quale mi sono follemente innamorato in questi anni di Juve e infatti da quando è arrivato ho sempre acquistato almeno una sua maglia il primo anno ho acquistato quella arancioniera non so se ve la ricordate che sembrava una maglia di Halloween e sia l'anno scorso che quest'anno invece la prima maglia che vedete anche qui in sfondo qui dietro insieme a quelle di del Piero Buffon è stata proprio di Federico Chiesa e venerdì tra l'altro ora indosserò a Milano per Milan Juventus alla seconda partita di YouTuber League dove possiamo passare per il primo giurone quindi ci vediamo a Milano per assistere dal vivo a questa partita nel caso ma poi ne parleremo più avanti quindi Federico Chiesa potrebbe rientrare in campo già domani in un amichevole lui è due settimane che sta lavorando comunque con la squadra e quindi dai cazzo Federico dai cazzo Federico ho proprio voglia di vederti in alternativa si potrebbe organizzare un'altra strada si potrebbe valutare un'altra strada per Chiesa e cioè quella di prestarlo all'Under-19 allenata da Paolo Montero in occasione della prossima partita che si dovrebbe giocare contro il Cagliari quindi Juventus primavera contro Cagliari primavera nell'articolo era scritto che questa partita sarebbe stata poi disputata venerdì comunque ti dà la dimensione dell'impossibilità di vedere Chiesa a disposizione contro l'Empoli perché non è che gioca magari pomeriggio poi la sera nel gioco un altro è disponibile per uno spezzone di partita io sono andato a vedere invece su Google ho trovato la data fissata a sabato quindi non so bene se venerdì o sabato ma in ogni caso non credo che potrebbe essere questa la strada giusta per Chiesa perché ribadisco se gioca al venerdì dopo a maggior ragione dopo quasi dieci mesi di stop per un'operazione così importante al ginocchio crociato riposati recupera e tutte queste cose qui anche perché non immaginatevi un Chiesa che torna e va già ai mille all'ora no Chiesa tornerà come ogni giocatore che ha dovuto affrontare questo tipo di operazione e sarà anche molto predisposto agli infortuni muscolari perché è logico che quando stai fermo così tanto quando il fisico non è più abituato a certe cariche a certi livelli di lavoro poi a livello muscolare qualcosina verrà meno se aggiungiamo che in questo momento noi a livello muscolare non siamo i migliori al mondo e anzi i nostri giocatori vanno sempre ad avere qualche problemino beh il rischio di una ricaduta di Federico Chiesa non dal punto di vista dell'operazione che quella dovrebbe essere andata a buon fine ci mancherebbe altro però proprio dal punto di vista muscolare beh il rischio è abbastanza alto mettiamolo già in conto mettiamolo già in preventivo ve lo dico subito da adesso perché sono abbastanza convinto che accadrà qualche noia muscolare a Chiesa e quindi non è solo per via del fatto che si è lavorato male ma è logico e naturale dopo questo tipo di operazioni avere qualche risentimento questo accadrà per forza quindi Chiesa sembra quello un po' più avanti rientro e davvero lo dico con la gioia nel cuore non posso fare altro che essere veramente felice e invece Pogba che ha avuto un'operazione diversa molto meno invasiva tra l'altro Pogba è stato abbastanza un somaro una bella tirata d'orecchia Pogba va fatta perché poteva rientrare decisamente prima ha optato per quella terapia conservativa che ha portato semplicemente via del tempo che poi non gli ha impedito l'operazione mettiamo tutto da parte mettiamo tutto in un calderone la Pimenta oggi ha iniziato a parlare anche di Pogba dicendo non vedeva l'ora di tornare alla Juve e oggi non vede l'ora di tornare in campo anche noi abbiamo questa voglia di rivederti in campo con il Pogba però c'è anche secondo me bisogno di iniziare a ritagliare poi una Juventus su misura a quelli che saranno anche i giocatori che rientreranno io faccio un po' fatica sinceramente a vedere Pogba Chiesa, Di Maria, Milik, Vlaovic, Paredes sto parlando dei giocatori più importanti della Juve o comunque dei nuovi acquisti tutti insieme con il 4-4-2 storto torse anche col 3-5-2 cioè pensare che in questo momento che torna Chiesa l'ultima partita che abbiamo giocato è stata col 3-5-2 un attimino dico allora dove vogliamo andare poi magari Chiesa verrà reinventato non lo so o punta come lo voleva Allegri però ci sono già Milik, Vlaovic lo stesso Di Maria quando rientrerà o esterno nel 3-5-2 al posto di Quadrado sì potrebbe essere forse però rischi di togliere un po' di potenziale a Federico Chiesa vedremo dai vedremo adesso siamo ancora nel porpallè si dice così? spero di sì non ho mai fatto francese però Pogba ha messo nel mirino il rientro e l'obiettivo comunque della Juventus è averli a pieno regime a piena disposizione per la partita di novembre del 6 novembre mi pare che sarà schedulata in casa in programma in casa contro l'Inter un derby d'Italia che è sempre un derby d'Italia che se riesce ad arrivarci anche nelle migliori condizioni possibili di giocatori beh tanta roba tanta roba io non credo che in questo momento inserendo questi due giocatori semplicemente all'interno della Juventus tutti i problemi vadano risolti anzi però sicuramente dal punto di vista tecnico la qualità dovrebbe alzarsi con i rientri di Pogba e Federico Chiesa perché come dicevo prima sono due giocatori che a mani bassa giocherebbero in ogni squadra in Serie A perché hanno il potenziale per farlo hanno la caratura per essere giocatori importanti Pogba c'ha nel medico mondiale quindi dovrà cercare di mettere anche una buona condizione prima del mondiale ma ce la può fare perché è differente è differente la sua posizione rispetto a quella di Chiesa dove ci sarà un po' più di calma bisognerà andare tranquilli e proprio con il discorso delle ricadute Pogba dal punto di vista muscolare invece dovrebbe essere ok poi magari qualche problemino qualche acciacco se lo porterà dietro ma lì sono affari suoi tra virgolette non inerenti all'operazione ha fatto un venisco Pogba un'operazione sicuramente meno importante rispetto a quella di Federico Chiesa e quindi questi due giocatori dovranno essere la ciliegina sulla torta però per essere la ciliegina sulla torta la Juventus dovrà lavorare per averla una torta evitare questi continui alti e bassi questi momenti di blackout cercare di lasciarsi da parte alle spalle questi primi due mesi terrificanti di stagione Juventina e cercare di davvero focalizzarsi su una nuova stagione ragionare di squadra fare dei piccoli passi in avanti anche dal punto di vista delle preparazioni delle partite perché non basta infatti ieri mi è dispiaciuto perché su Twitter sto continuando a leggere che tanti tifosi del Juventus non dovrebbero esaltare il Napoli perché negli anni passati il Napoli comunque i tifosi del Napoli non hanno esaltato noi e quindi non se lo meritano e che dato che il Napoli ha vinto col Bologna non ha fatto niente di straordinario perché anche noi avevamo vinto col Bologna e non era successo niente boh ragazzi cioè mi sembra in questo momento pensare che che il Juventus possa essere superiore al Napoli mi sembra semplicemente una follia e lo dico da totale amante della Juventus e lo potete vedere alle mie spalle lo potete vedere con tutte le emozioni che vi ho portato negli anni a tinte bianconere però dall'altra parte poi secondo me c'era fare un bel passo indietro e ragionare come un tifoso di calcio o come un amante di questo sport ed essere appunto sportivi perché non c'è niente di male a dire che oggi siamo nettamente inferiore al Napoli siamo nettamente inferiore al Milan non so se siamo nettamente inferiore all'Inter perché anche loro insomma sono lì che ballano e traballano però ci sono squadre ragazzi che scendono in campo anche se non fanno quella singola prestazione di alto livello se prendi in considerazione tutte le altre dici sono più squadra di noi se prendi in esame i risultati anche sia in campo nazionale o internazionale in questo momento dici sono più squadra di noi quindi non c'è niente di male nel dire che in questo momento la Juventus non è uno ma forse due tre livelli inferiore al Napoli non significa che a fine anno questa gerarchia non si possa ribaltare perché se la Juventus si inizia a ragionare in un certo modo questi rientri iniziano a dare quella spinta in più ai giocatori magari al Napoli insegnare qualcosina poi si può raggiungere ad oggi la vedo dura siamo una decina di punti indietro in dieci partite faccio un po' fatica a dire che siamo meglio noi loro sono amanti di dieci sono già qualificati agli ottavi in Champions League noi siamo a un passo dall'eliminazione poi certo possiamo raggiungerli poi certo questi rientri possono sicuramente dire a loro e anzi diranno la loro in chiave Juve però bisogna ricominciare ad essere più squadra perché sennò anche i rientri di Pogba e Chiesa e Di Maria quando saranno saranno rientri giocatori che verranno semplicemente assorbiti dalla squadra quindi bisogna fare un passo in avanti chiudo dicendo che un altro che mi piacerebbe rivedere presto è Fabio Miretti che non ha infortuni di nessun tipo però ad oggi mi sembra un giocatore leggermente messo da parte anzi chiudo dicendo un'ultima cosa non c'era nemmeno stato bisogno di fare il video su Bonucci al Tottenham perché era stata una notizia circolata subito dopo la conclusione del derby e a quanto pare da quanto ho capito lo stesso Romeo l'ha smentita categoricamente dicendo non ho avuto conferme da questa cosa quindi Bonucci non avrebbe chiesto la cessione direzione Tottenham dato che tanti commenti ieri mi scrivevano questa cosa però c'era da parlare del post partita oggi invece siamo un po' più liberi di parlare di altre cose ragazzi io vi do appuntamento a domani per un altro contenuto a meno che questa sera non riscano altre notizie che commenteremo insieme e vi dico anche che tra domani e mercoledì faremo anche una breve live su Twitch che poi vi ricaricherò qui su YouTube in cui ci faremo domande e risposte con i sub della chat di Twitch quindi appuntamento anche sull'altra piattaforma e dal vivo invece ci vediamo appunto venerdì a Milano dove giocheremo Milan Juve e poi la sera devo valutare se fare la live reaction della partita direttamente a Milano o rientrare in casa ma voi questo non interessa minimamente un abbraccio forza Juve e vi aspettiamo Paul Fede stesso Angel che in questo momento è quello più lontano abbiamo bisogno di voi che in questo momento è un abbraccio